ciao a tutti e benvenuti a gioca con me giochi per bambini l'ultima volta avevo fatto vedere l'uovo di pasqua con una mega sorpresa all'interno ed era proprio il my little pony sunset shimmer se vi ricordate questo unicorno che è un cartoncino da far rimanere in piedi da colorare con i colori che abbiamo trovato all'interno dell'uovo ovviamente e che sono questi qui vedete ricordate quello dove mancava un colore sembrava mancasse un colore il cerchietto che avevo trovato di firmato my little pony e il cd molti di voi nei commenti mi avevano chiesto di sapere cosa c'era all'interno del cd in realtà è tutto in italiano inglese o francese quindi si può vedere senza problemi e è proprio una storia c'è la storia di my little pony l'amicizia è una cosa magica quindi è proprio una storia elimina che se volete vedere potete vedere in tranquillità ora cominciamo a colorare coloriamo il nostro pony parto con l'arancione parto con l'arancione Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti ragazzi.